ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale nuova settimana nuovo box di titans quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a spacchettare oggi eccoci qui poi alla fine vi do grandi novità ragazzi grandi novità su una nuova collezione che sta per uscire poi rimanete fino alla fine anche se volete i codici allora go sense nuova firma che mi mancava ottimo pinamonti top impact lo scudetto dell'inter molto bene la maglia dell'inter questo praticamente era il pacchetto dell'inter ragazzi e poi attacco stellare duvan zapato e muriel e c'è qualcosa la maglia dello spezia secondo pacchetto dai ragazzi siamo alla ricerca di queste invincibili marco arnautovic top impact poi chiama il var attacco stellare zaniolo e temi ebram che mi mancava muro d'acciaio gionber e stramberg poi abbiamo cranio e carboni culibali e di tacchio prima di passare al prossimo pacchetto vi voglio far vedere una cosa che sto facendo un piccolo progettino per quanto riguarda le score ovvero sto cercando di fare l'arcobaleno il rainbow invece di un solo giocatore di tutta la squadra come funziona il rainbow solitamente il rainbow di un solo giocatore è praticamente collezionare tutte le numerate dello stesso giocatore e avere tutti i colori dell'arcobaleno per l'appunto io in questo caso invece di farlo di un giocatore singolo lo sto facendo dell'intera roma e quindi poi vi aggiornerò al momento mi sono arrivate questa di 15 di bagnaz anzi questa l'avevamo trovata in un break mi è arrivata la 49 blu di pellegrini ho già preso le altre e mi devono arrivare mi manca solo la green e sto decidendo di quale giocatore prenderla comunque vi aggiornerò magari nei prossimi video e nelle prossime settimane di questo progettino di rainbow ditemi magari se vi può piacere l'idea vi consiglio di farlo perché può essere un modo interessante di collezionare le numerate della vostra squadra preferita detto questo torniamo a titans terzo pacchetto per noi ragazzi siamo alla ricerca ovviamente delle invincibili sono al secondo box e ancora non abbiamo trovato nulla e questo non va bene allora nicolò rovella top impact poi abbiamo anghissà poi abbiamo lo scudetto del genoa poi abbiamo attacco stellare raspatori e scamacca e questa è davvero bella la maglia del bologna e poi il muro d'acciaio il muro d'acciaio dell'atalanta con mosso e toloi andiamo avanti niente di che fino adesso dai dai allora e abbiamo o temi e brand questa mi mancava molto bene poi abbiamo top impact belez muro d'acciaio dell'udinese silvestri nudink cuore pulsante mi è uscito 732 volte dell'inter cuore pulsante del milan e la maglia della roma quindi niente da fare nemmeno in questo pacchetto ragazzi andiamo avanti vediamo vediamo chi troviamo qui e abbiamo allora time machine andrea belotti top impact immobile lo scudetto del napoli poi attacco stellare di nuovo belotti la maglia del sassuolo e e e muro d'acciaio dell'atalanta andiamo avanti altro pacchetto sono un po demoralizzato ragazzi perché non sto trovando veramente nulla di raro in questi pacchetti e vediamo qui allora raul bellanova roberto piccoli nuova firma poi abbiamo top impact vicario lo scudetto del torino attenzione della juve è la line up e e e e poi abbiamo il cuore pulsante dell'atalanta e ancora juve attacco stellare con vlavic che questa già c'era uscita ma sempre un bel doppione per quanto riguarda i codici partiamo subito da questo eccolo qui in bocca al lupo a chi è riuscito a prenderlo sapete che i codici si possono prendere una sola volta quindi il primo che arriva magari chi ha attivato la campanella arriva prima degli altri ultimo pacchetto per oggi poi vi dico le novità e vi do tutti i codici allora lorenzo insignia top impact che mi mancava chiama il var che questa volta ce ne sono usciti pochi di chiama il var muro d'acciaio della samp attacco stellare dello spezia cuore pulsante dell'udinese e la seconda maglia del torino quindi niente rarità particolari niente invincibili ragazzi detto questo mentre vi do i codici vi racconto una grande grande novità ragazzi perché a fine mese sta per uscire una collezione in stile score una collezione molto costosa ragazzi che sono le mosaic della serie a è un tipo di collezione in stile score diciamo così per la prima volta anche le mosaic arrivano in edicola non vedo l'ora il mio portafoglio la pensa un po diversamente ma detto questo ovviamente la troverete sul canale non vedo l'ora di portarvele ovviamente sono un livello diverso di carte che si possono trovare all'interno di questi pacchetti in edicola non sono le adrenaline che sono delle carte di un livello inferiore per quanto riguarda la qualità del materiale ma sono proprio due categorie diverse anche difficile poi andarle a paragonare come vi avevo già spiegato con le scorra poi vi aggiornerò per quanto riguarda il mio progetto del rainbow di tutta la squadra vediamo come procede intanto questi sono i codici spero che vi siano utili che riuscite a prenderli eccoli qui qui abbiamo un portiere un attaccante un centrocampista e chiudiamo con il codice della maglia del torino detto questo ragazzi io vi ringrazio se siete arrivati fin qui e per premiare chi arriva sempre alla fine del video ci apriamo un altro pacchetto lo so lo so questa è una chicca per chi mi supporta sempre per chi arriva sempre alla fine dei video e ce ne andiamo ad aprire a vedere uno alla volta allora vediamo 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 allora attaccante chi è allora del bologna barro e arnaudic poi qui abbiamo la salernitana vi prendete subito il codice con la line up line up del bologna vi prendete subito il codice anche in questo caso maglia dell'empoli eccolo qui il codice per voi poi qui abbiamo il var sto provando ad aprire ragazzi questo pacchetto al contrario vedendo se mi porta più fortuna qui abbiamo il codice di un centrocampista vediamo chi è è l'ultima ed è ed è ed è della lazio toma basic rookie quindi anche in questo caso ragazzi niente invincibile ma questo è per voi che siete arrivati fino alla fine detto questo ragazzi questa volta davvero non resta che salutarvi augurarvi buona giornata e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi buona giornata ciao